Musica Ciao ragazzi, anche oggi ci troviamo a Fiera Milano City e stiamo per entrare a Fa la Cosa Giusta Fa la Cosa Giusta è la prima fiera nazionale dedicata al consumo consapevole e sostenibile e quest'anno è giunta la sua sedicesima edizione Musica Nata nel 2004 da un progetto della casa editrice Terre di Mezzo questa fiera vuol far conoscere e diffondere le buone pratiche di consumo e produzione Una a tre giorni di degustazioni, incontri, laboratori ed eventi con tantissimi espositori e diverse aree tematiche tra queste cosmesi naturale e biologica, moda critica, area vegan, street food, mondo dei bambini noi siamo diretti a quella del turismo consapevole Musica Partiamo da Piazza dei Viaggiatori per andare alla scoperta di tutte quelle aziende attente non solo all'ambiente ma anche ai diritti delle popolazioni nelle diverse parti del mondo Musica Oggi il turismo rappresenta una delle attività economiche principali al mondo seconda soltanto a quella del petrolio pensate che è da lavorare a una persona su 15 le conseguenze ai suoi impatto è innegabile Il turismo responsabile è quello attuato secondo principi di giustizia sociale ed economica e nel pieno rispetto dell'ambiente e delle culture riconosce la centralità della comunità locale ospitante e il suo diritto ad essere protagonista nello sviluppo turistico sostenibile e socialmente responsabile del proprio territorio Musica Qualsiasi tipo di viaggio con qualsiasi destinazione e budget può essere sostenibile Essere un viaggiatore responsabile significa essere consapevoli di ciò che ci circonda e del nostro impatto sull'ambiente in modo tale da fare scelte intelligenti Musica Economia, etica e ambiente sono i principi fondamentali su cui si basa il turismo sostenibile Nell'info box trovate l'iconografica realizzata da Valentina Miozzo del blog Viaggiare Libera Musica La nostra esperienza oggi a fare la cosa giusta finisce qui e noi ci vediamo al prossimo video Ciao Musica 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 Musica